Il primo giudizio di Don Silvano L'ho sentito nel 1980 perché io, Monsignor Zarri, così, venendo il discorso su Don Silvano che era appena arrivato, poi ha detto quelle parole impegnative, impegnative che nostro signore dice di Natanaele, ecco un buon israelita in cui non c'è frodo. Una notte caspita sentiamo un baccano del diavolo che il toro, che sembrava un elefante, si era slegato, no, non so se eravamo usciti a separare, il fatto sta che eravamo preoccupati dalla stalla dove c'erano le mucche. Allora siamo andati dentro e abbiamo, come si dice, chiuso bene, barricato la porta perché non è trasto e faceva ridere che tre preti fossero lì a difendere le mucche. Quando è stato? Abbiamo fatto il funerale di Don Tarcisio Nardelli, mio carissimo amico, col quale abbiamo vissuto a Usokami otto anni, insomma, e quindi abbiamo potuto condividere per tanto tempo una bella esperienza quella in Tanzania. E poi ancora prima lui rimase un anno intero su nel Friuli, durante o dopo il terremoto, e io ebbi occasione di andare su in due momenti a lavorare, lì un po' dare una mano insieme con altri per la costruzione delle casette e così via. Ma ci conoscevamo già anche da prima. Ecco, vorrei ricordare che è stato anche cappellano qui a Vergato. Ho visto un suo battesimo celebrato nel 1967, non so, ecco, so che così è stato soltanto un anno però qui a Vergato. Beh, Don Tarcisio non ha mai avuto una grandissima salute, infatti era entrato nei Gesuiti, dove c'era mi pare anche lo zio, ma poi dovete andare a casa perché per una nefrite, per un... sì, non aveva salute. Invece poi, dopo, sì, sì, ha avuto tanta forza in missione, è andato bene, ha avuto, sì, una malaria abbastanza forte, un anno che dovete venire anche a casa, ma comunque, insomma, se l'è cavata sempre bene, insomma, ed era contento, infatti dice, si vede che il Signore mi voleva proprio qui. E così, insieme, dicevo, abbiamo condiviso gioie, fatiche, ma anche tanta consolazione nel lavoro fatto insieme. Ricordo le serate che noi trascoravamo a chiacchierare sulle cose che avevamo, gli avvenimenti del giorno, le scoperte, perché anche il mondo africano è sempre diverso, è sempre da scoprire. Abbiamo, così, lavorato insieme per quanto riguarda la pastorale, abbiamo, sì, abbiamo impostato tutta la preparazione dei giovani al battesimo in tre anni, abbiamo aiutato, andavamo noi, allora, a prendere gli ammalati, anche di notte, mi ricordo che facevamo una settimana ciascuno, perché delle volte dovevamo andare anche di notte, allora, per non alzarci tutti e due, sapevamo già, ecco, che chi doveva andare, se si veniva richiesti di questo servizio, insomma. Ma poi la preghiera, insieme con le suore, i fratelli, abbiamo vissuto una bella vita di comunità a Usocami. E un bel rapporto anche con la gente, a dire il vero, la gente gli ha voluto molto bene, ci ha voluto molto bene. Lui poi era molto generoso, molto, sì, era davvero un uomo di grande misericordia, di grande comprensione. Io lo invidio un po', perché ha lavorato tanto e direi che, sì, si è preparato bene. A questo incontro con il Signore, lui ne ha parlato, ha disposto anche tutto il suo funerale, eccetera, lasciando una registrazione, e diceva il futuro sarà sempre meglio. E così, e la morte l'ha vista sempre come una rinascita, rinascita faticosa, dolorosa, per lui poi, che è stato 20 giorni ricoverato all'ospedale per Covid, insomma, e voleva, avrebbe desiderato morire in casa, in mezzo alla gente, diciamo, nella sua parrocchia, invece purtroppo è morto all'ospedale. Però, ecco, anche il funerale è stato un momento di grande consolazione, ecco, insieme con l'arcivescovo, vescovo, i vescovi, ce n'erano due, altri due vescovi, tanti preti e anche tanta gente. Vabbè, insomma, noi ringraziamo il Signore, ecco, per queste figure di preti, che sono state veramente un esempio, ecco, di grande missionarietà, un grande desiderio. Lui, anche dopo che tornò dall'Africa, non riusciva a tornare a Usokami, ma anche in altre parti, perché andava a trovare molti missionari, anche bolognesi, in Brasile, in altre parti, è stato anche in Congo, insomma, davvero un grande animo missionario. Grazie a tutti.